Sì, ripartiamo dal segno del sagittario. A proposito di weekend, perché non fate le valigie partite? La cosa che vi piace è fare di più in assoluto. E allora non rimanete nei soliti posti, non frequentate sempre le solite facce, le solite persone. Avete bisogno di novità, avete bisogno di dare libero sfogo anche a tutta questa energia portata da Marte nel vostro segno, portata da questo sole bellissimo nel segno dell'Ariete. E allora cercate di fare delle cose in grado di soddisfarvi al 100%. Un breve viaggio, una breve vacanza, oppure vita all'aria aperta, attività fisica è quello che dovete fare nel corso di questa giornata, ma direi anche dell'intero fine settimana. Bellissimo l'amore!